Doveva essere una fuga verso una nuova vita insieme. I soldi che lei chiedeva dovevano servire per acquistare un nido d'amore in Albania. Un maturo imprenditore dell'Alta Padovana però ha finito nelle maglie di un ricatto che l'ha gettato in una profonda disperazione. La storia d'amore tra il professionista sposato da lungo tempo e la 29enne albanese era iniziata nel 2014. La donna in poco tempo era riuscita a farsi consegnare quasi 35.000 euro, soldi che dovevano servire per acquistare una casa nel suo paese d'origine. La promessa era quella di una convivenza. Ma la relazione si è interrotta bruscamente e a questo punto la giovane amante ha cominciato a ricattare l'imprenditore per mesi insieme ad un complice cercato di estorcergli denaro, minacciando di raccontare tutti i particolari della storia d'amore alla moglie tradita. L'uomo, stremato dalle continue richieste di soldi, si è rivolto ai carabinieri. Ieri sera in stazione a Padova era prevista l'ultima consegna di denaro, 10.000 euro in contanti. All'appuntamento però si sono presentati anche i militari dell'arma che hanno arrestato i due, Natascia Caciqui, 29enne albanese, e il suo complice Ruggiero Albrizio, con cui da qualche tempo conviveva a Conegliano. Nell'auto dell'uomo è stata trovata e sequestrata una bomboletta di spray urticante.